Oggi ci occuperemo su Fast Forward di OBS per fare lo streaming, il live streaming, su YouTube dall'Italia, dalle classiche e bellissime connessioni nostre. Io non sono un grande esperto di streaming, di queste cose qua, di tante altre cose, però in realtà ho molta facilità a trovare delle soluzioni e a riuscirci, molte volte senza neanche comprendere che cosa sto facendo. E quindi, non lo so, è un nuovo proprio filone che è nato con la tecnologia, credo, questa competenza senza comprensione con altre cose che Daniel Dennett cita varie volte. Quindi ho condiviso sul forum questa discussione che state vedendo, voglio condividere e parlarvi con voi di alcune cose che sono molto importanti perché in Italia non si riesce a fare un buon streaming e quindi, insomma, mi sono un po' ingegnato, ho fatto un sacco di prove e questa per me è l'impostazione migliore, quindi la condivido nella speranza che possa aiutare qualcuno nel migliorare i propri streaming. Innanzitutto, una volta che voi avete impostato OBS con YouTube e fate avvia trasmissione su OBS, da YouTube incomincio a ricevere il segnale e vi dà le informazioni, vi esce il rosso, l'arancione, il verde e i messaggi che mette sono molto precisi, quindi se c'è qualcosa che non va, se non è verde, YouTube ve lo dice. Questo, diciamo, è molto importante. È la prima cosa, assicurarsi e sincerarsi che una volta che avete fatto tutto, avete fatto avvia trasmissione su OBS e ovviamente ancora non è avviata, non siete live, andate a vedere che cosa vi dà YouTube. Magari restate anche 5-10 minuti a guardare se è sempre verde perché il problema delle connessioni in Italia non è la banda ma è la stabilità, quindi è un grosso problema. Io mi sono dimenticato del 1080, come prima cosa, come prima informazione, streammo solo a 720, diciamoci la verità, tanto la differenza la vedono in pochi, sì, dipende che live fate ovviamente, per le live che faccio io non si nota questa grande differenza, quindi io mi sono dimenticato del 1080, faccio 720, non supero mai i 4000 di bitrate e il keyframe che uso è 2, ma ora lo vediamo. Allora, nelle impostazioni video uso questi valori qua, non scalo, non faccio niente, eccetera, eccetera, parto con la 1280x720, 1280x720, valori comuni dell'FPS 30 bilineare, questa è la mia impostazione video e mi trovo, diciamo, benissimo. Nell'output uso due codifiche a seconda di quello che devo fare. La prima codifica, come vedete, è questa, uso quella della Apple perché, insomma, il software encoder direttamente riscala l'uscita in modo che sia lineare col video, vedete il bitrate e uso qui due. Questa cosa del due, dell'uno, dello zero non ve la so spiegare tecnicamente, la spiegano bene nei forum americani, se c'è qualcuno più bravo di me, perché questo è il bello di internet, il fatto che ci sono i commenti e se le persone condividessero la propria conoscenza, chiunque potrebbe creare un articolo e la somma della conoscenza dei commenti supererebbe di gran lunga quella di quello che sta producendo il contenuto e la bellezza della condivisione della conoscenza. Se avete domande specifiche vi consiglio o di usare YouTube o di usare il forum GT perché lì ne parliamo tanto. La codifica 2 che invece uso a volte, quando, diciamo, la prima non mi va, è questa qui. Faccio una codifica X264, vedete che faccio sempre 1080x720 e faccio questo tipo di lavoro. Bitrate lo scendo 2.5 quando sono in difficoltà, 2. very fast e ciao. Diciamo che con queste impostazioni di streaming io non ho mai avuto difficoltà anche quando sono in Calabria con la connessione che è qua, che è quando sono in vacanza a casa mia rispetto al lavoro a Bologna. Insomma, mi trovo bene. Overclock, che è più tecnico di me, sul forum aggiunge una cosa importante. E poi vi parlo delle ultime novità anche che ci sono perché OBS si sta per aggiornare. Overclock parla di come calcolare il frame per secondo, l'FPS, e spiega insomma tutta una serie di cose a secondo della propria connessione perché ovviamente dipende da cosa volete streammare. Io vi dico che è ovvio che se uno fa i giochi è un'altra roba, ma i miei consigli non sono, non arrivano a quel livello perché non ho fatto esperienza di quella cosa lì. Quindi o mi fido di qualcuno e ve la posso riportare, oppure io ci faccio esperienza direttamente nelle cose e dopo che ci ho fatto esperienza ve la riporto. Questa dello streaming, che è uno dei tutorial su Fast Forward, anche gli altri che ho fatto su OBS più utilizzati, ecco, è importante e ve la volevo condividere. Se avete difficoltà c'è anche questa discussione specifica, ecco qua. E poi ci sono le ultime novità, Overclock mi ha risposto, che OBS sta per rilasciare la 24.0, me l'ha segnata Francesco Almasio, molto interessante perché parla del bitrate, se cliccate il bitrate dinamico, in sostanza, vedete qua, può andare a verificare in modo automatico com'è la vostra connessione e quindi di conseguenza regolarsi. Molto, molto interessante, finalmente, questa è una delle opzioni, secondo me, su OBS per chi fa streaming più interessante, hanno messo la possibilità di fare pausa nelle registrazioni, insomma, delle cose un po' più belle, però questo è, secondo me, la cosa più interessante. Il bitrate dinamico, anche lui lo dice, anche Overclock e Nero dice, è top, altrimenti dice Hangout. Insomma, queste sono le impostazioni, fatemi sapere se avete problemi, so che c'erano dei problemi con le live su YouTube, in Italia, ma io credo che siano state risolte. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete condividere la vostra esperienza, se avete problemi specifici, insomma, tutto quello che volete, trovate sotto i commenti di YouTube, oppure aprite delle discussioni sul forum GT, perché magari guardate questo video tra qualche mese, sul forum GT, nella sezione YouTube, guardate che bello, ci sono tutte le ultime novità, ci stiamo scambiando tutta una serie di consigli, stiamo creando una guida a YouTube marketing divisa per argomento, vedete, la ricerca delle parole chiave, le live, la SEO, YouTube analytics, la monetizzazione, il remarketing dei prodotti, guardate questa discussione che l'ho citata ieri, questa per collegarvi le cose, poi ne ha aperta un'altra marsala, sempre lui, su come fare le mani, insomma, sul forum trovate un sacco di informazioni. Da questo è tutto, ci vediamo domani con un altro video, per qualsiasi cosa lasciatemi un commento. Grazie.